Ho sentito molto parlare del sito News Events Touring che trovo sia un sito fantastico che ci permette a tutti noi di visionare diverse sfilate riguardanti la moda e di moltissime foto spettacolari con diversi personaggi e diversi modelli e modelle ovviamente e quindi vi invito tutti quanti a seguire News Events Touring. Ciao Notizie 20 Torino!